Se ti piace la frutta Ok, adesso credo che si ride Alcol In testa, preciso Dai Dina Grande Ma brillava e non brilla più Ok Uno di pistola Anzi era di revolver In che proprio i conti coi fichi secchi facciamo Mazzarola Guarda, non ti dico che dovresti riempirmi di piombo Però almeno Mettermi in condizione di non dovermi preoccupare In scontri così mi pare il minimo Ditto in testa l'ho ammazzato? Non lo so Ovvio che no Bello Giulivo proprio Sì, capito Buono No Altra pistola Brava Dina Ho un compagno che aiuta finalmente Ricorda un po' Bill E ricarica Ok Stai bene? Sì Sto bene, sì Star bene sto bene Ovviamente povero di munizioni Però Si tira avanti ecco Purtroppo Raga È un gioco di sopravvivenza Ma la faccia della sopravvivenza Raga Qua Alco le munizioni Proprio Scarteggiano alquanto E volendo non possono fabbricare neanche niente Nice Ok Qua c'è da fare molta attenzione Voglio tutti qui giù Ora Dove cazzo vengono gli spari? Non lo so Guarda il cortile Tu Alla Cazzo vengono È dall'unica parte in cui potrebbero venire no? Non c'è comunicazione tra di loro? Ok Tu potresti essere un obiettivo abbastanza easy Vieni Munizioni Zero Proiettili Zero Come diceva la pubblicità no? Brufoli Zero Noi diciamo proiettili Zero Vabbè L'ho già spiegato in Nel capitolo precedente Che Non Non mi serve che tu mi riempa d'oro Come a GTA Ad esempio Però almeno Qualcosa per sopravvivere Penso sia il minimo In questi giochi così Pochino più vicini la prossima volta Chi è che vieni qui? Tu Fuori una Ok compreso Quello non ammazzato prima Dovrebbero essere tre Rimasti Credo Poi magari mi sbaglio Eh Andiamo a fare due così Yes Certo che riusciamo a fare due Oh due munizioni di pistola Perfetto Avevo premuto Quadratoli Stavo andando a mettere il maceta Alla gola Stavo per smadonnare Malissimo Dai su Manca l'ultimo E tutti uccisi Furtivamente Sei su sei Aspetta Dina Aspetta che c'è una stanzetta L'invitante Qualcosa Ce n'è altri? Voi io non mi fido Sapete Amunizioni come siamo messi Più la pistola normale Quindi Vado a prendere quella Ok 8 integratori Buoni Eh ma la prossima Upgrade Chiamiamola così È molto lontana Perché Abbiamo 10 integratori È a 40 Fate voi Ok 3 kit medici È una cosa Molto molto buona Ma il problema Del kit medico Sono io Che molte volte Mi fisso che Non li voglio usare Invece dovrei Questi violini Con i bassi Mi mettono Un'inquitudine Perché penso Che mi stiano cercando O che mi stiano vedendo Però in realtà No Solo la musica Viene a vedere Fanculo in lupi Dobbiamo Esatto No L'agio L'agio Allora Dove sono? Dov'è il gruppo di Adrien? Sto cazzo Ehi Noi due L'ho persa Cosa? Visto niente? No Coprite il tetto Io controllo qui Sicuri Non sia in strada Abbiamo controllato Come può essere Chiudetto E non lo so È stato segnalato Greg è andato A capitolare Dovrebbe rientrare Tutti Ok beh Se intanto Tipo un paio scendono Ci farebbero un favore Giù Non c'è nessuno Ho un cattivo presentimento Già anch'io vero? Uno è là E uno è qui Stanno andando in là Minchiatina però Fa pigliare un colpo per nulla Vai 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 Beh direi perfetto Se ne sono andati Meglio di così La porta Buono E ciao a tutti Buciaone Oh scorte Ottimo Cosa posso fabbricarmi? Ancora Niente Che vita di merda Qualche c'è? Oh vabbè Questi non si rifiutano mai Esplosivo Ingranaggi Alcol Oh una bomba Ci sta Non è alcol la bottiglia Ma è un recipiente Ecco Alcol è la fiamma Ordini di Isaac Vabbè Poi leggeremo Anzi andiamo a leggere va Uccidete qualsiasi intruso Ok Ho fatto bene a leggerlo Devo ammetterlo Oh finalmente siamo ricchi Abbiamo munizione a sufficienza Per poter fare un bel battaglione E credo che l'unica De d'uscita sia questa Per farlo Bloccata Fregato Non ho fregato In testa proprio Ok dovrebbero essere finiti Anche lì Proviamo Dina chiudi la porta No Però a quel punto Mi viene da pensare Dove ammazzarli per forza Dove vuoi le F Via scappiamo di qui Ho visto un soldato parlare Riusciamo a scappare Yes Con i cani Vabbè ma vanno da sotto quindi Sarà solo questione di scappare Credo Dove esserci un modo Potrebbe essere questo il modo Ok Andiamo Oh finalmente Un punto Credo e spero tranquillo Dopo tutto quel che abbiamo passato Vediamo cosa c'è La bellezza di entrare nelle case degli altri A farsi i cazzi degli altri È che tu puoi rubare Onestamente Cioè in realtà Onestamente niente però Diciamo che L'onesto è riferito al fatto che c'è tanta roba Anche qua Sei integratori Proprio gratis E questo gioco quando sei nel ben mezzo dello scontro Cioè devi far la scorta prima Lo dicevo anche Quando giocavamo al primo Che l'abbiamo streamato tutto E voi lo sapete Che se non ti fai la scorta Il gioco lì per lì non ti aiuta E a volte questa cosa Ti mette non poco nei casini Perché Tu avresti bisogno di Ma il gioco dice nine Ok non c'è nessuno Sì Ha detto eh Sembra sicuro Bene Vieni a vedere È una di loro Che si fotta allora Leggi la lettera Jordan Isaac ci ha segnati per due settimane intere allo studio tv Iene avvistate in zona Questa è per farti compagnia Lì Studio tv iene Mi pare una cosa già vista Lo studio tv Pensi sia ancora lì? Non resta che scoprirlo Allora È vicino a questi palazzi alti Di là Ok Prendiamo Leah No Lì No È Non No Grazie a tutti.